Dopo 14 mesi siamo in grado di rispondere alla domanda che era stata rivolta al corpo elettorale, la sanità di prossimità. Così l'assessore regionale Filippo Saltamartini, che insieme ai colleghi di giunta e al presidente Francesco Acquaroli, ha illustrato la destinazione delle risorse connesse al piano nazionale di ripresa e resilienza e l'aggiornamento del masterplan sull'edilizia sanitaria. Per quanto riguarda l'area Vassa 1, sono previste case di comunità a Monbaroccio, Mondolfo e Fossombrone. A Pesaro l'ospedale di comunità, mentre a Caglia entrambi. Inoltre a Fano, Pesaro e Urbino verrà realizzato un COT, un centro operativo territoriale. Importanti investimenti sono previsti dal masterplan sull'edilizia ospedaliera, con atti di pianificazione a breve e medio termine. A disposizione 923 milioni per 50 interventi in esecuzione, in cantiero e in fase di progettazione. Tra questi tre nuovi ospedali a Pesaro, Macerate e San Benedetto del Tronto. Sei nuove strutture per le emergenze a Fano, Urbino, Senigallia, Fabriano, Civita Nova Marche e Ascoli Piceno. Tre ospedali a Cagli, Fano e Tolentino. Quattro ospedali in corso di esecuzione, Salesi, Irca, Fermo e Amandola. Nonché la ristrutturazione del nosocomio di Pergola. A questi si manano ad aggiungere ben 33 riqualificazioni di strutture sanitarie e ospedaliere esistenti. Parliamo di risorse ingenti, ha sottolineato il governatore, e sono tanti gli interventi previsti. Quelli rimasti esclusi verranno realizzati, ma non in questa fase. Ci saranno altre opportunità con un'azione di riorganizzazione e di revisione dei costi dell'azienda ospedaliere. Infatti, ha aggiunto il Presidente, con l'ottimizzazione si possono trovare spazi utili a generare risorse da reinvestire sul territorio con strutture, strumenti e personale. Entro il 28 febbraio, ha spiegato Saltamartini, le schede devono essere depositate, tutte le opere devono essere completate entro il 2026, ma con un'avvertenza, se una di queste a livello nazionale non dovesse essere realizzata, l'Europa potrebbe non erogare i fondi previsti con il PNRR, un peso che riguarderà gare, appalti e controllo dell'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti, ma con orgoglio presentiamo il piano e partecipiamo in prima fila allo sviluppo del nostro Paese. Cosa sono le case di comunità? Sono il raggruppamento di tutti i servizi territoriali composti dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle adi, dagli infermieri di famiglia, dai sociologi, psicologi e così via. I criteri sono stati quelli di mettere accanto a ogni ospedale per acuto possibilmente un ospedale di comunità e delle case di comunità. Per esempio è stato individuato Galantara che serve, servente all'ospedale di Pesaro. È stato individuato l'intervento su Cagli e su Fossombrone che sono ospedali di comunità che sono serventi all'ospedale di Fano. Io naturalmente ritengo che questo non soddisfa completamente la domanda, per cui bisogna abbattere il numero chiuso a medicina. Nei prossimi anni dobbiamo formare i medici che si servono insieme agli infermieri, dobbiamo aumentare i fondi per le scuole di specializzazione, senza cui la domanda che proviene dai cittadini potrà essere difficilmente soddisfatta. Questo lo stiamo chiedendo da parecchi mesi, spero che qualcuno ci ascolti e spero anche che ci sia la consapevolezza che un conto essere visitati da un medico in persona e un conto chiede il teleconsulto, il teleriferto o la teleconferenza. L'assessore Baldelli ha poi evidenziato il cambio di passo della giunta a Quaroli che punta alla tutela del diritto alla salute, ha detto, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra. Per il Santa Croce, Baldelli ha precisato che sorgerà una nuova palazzina in grado di gestire le emergenze, previsti 16 milioni di euro. Palazzine e ospedali alla terza del terzo millennio. Perché questo? Perché abbiamo trovato una situazione edilizia ospedaliera che gridava vendetta. Io ho su dire in alcune zone del nostro territorio di tipo medievale. In un anno abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti, l'edilizia sanitaria e ospedaliera si è confrontata con i colleghi, con il collega della sanità e con la direzione dell'Asur e dell'azienda ospedaliere e oggi abbiamo presentato questo grande piano che cambia la sanità della nostra regione. A sottolineare il lavoro svolto è stato anche il vicepresidente Mirko Carloni che si è soffermato sull'ospice pediatrico previsto a Fano e per il quale è stata portata avanti una grande battaglia in questi anni, in particolare dall'associazione Maruzza, preseduta da Elmo Santini. Ecco, oggi noi stiamo preparando un piano che supera quel centralismo democratico, scusatemi, che voleva chiudere tutto quanto per concentrare nelle grandi città, no? Noi invece stiamo facendo un piano che rimette dignità ai territori dando un presidio di salute in ogni paese, in ogni comunità. Poi per esempio, faccio l'esempio di Fano che è stato oggetto anche di diverse discussioni. In questo piano ci sono 16 milioni per l'ospedale, ma non di secondo interesse la rimessa in pristino dell'ospedaletto dei bambini per 5,5 milioni di euro, una cosa storica che io ho passato gli ultimi 12 anni in Consiglio regionale sono argomenti di cui ci sono sfiumi di trascrizione del Consiglio. In questo piano ci sono i fatti concreti con la copertura finanziaria. Quindi invito soprattutto la stampa a dare il giusto merito per il lavoro fatto perché questa di oggi è una delibera davvero dai connotati storici. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.